La nuova gamma di scope elettriche senza filo Samsung Jet ha una risposta ad ogni tua esigenza di pulito. Tanti modelli con tecnologie all'avanguardia e prestazioni eccellenti che sapranno darti un valido aiuto per pulire a fondo qualsiasi superficie di casa. E lo stress da pulizie sarà solo un lontano ricordo. Devi sapere che tutte le scope jet sono accomunate da caratteristiche che ne fanno gli strumenti della nuova generazione del pulito e che ti aiuteranno a rendere le pulizie domestiche ancora più facili e veloci. Copriamo insieme quali sono. Lavabilità. Filtro, ciclone e serbatoio completamente lavabili per mantenere alte performance nel tempo. Potenza. Con una potenza d'aspirazione fino a 280 watt la polvere non ha scampo. Durabilità. Grazie ad un'autonomia fino a 160 minuti potrai pulire efficientemente tutta casa senza interruzioni. Ma non è finita qui. Le scope della gamma Samsung jet hanno un design ergonomico e leggero e un display digitale per un comodo controllo della scopa. Un sistema di filtraggio a 5 livelli che può trattenere fino al 99,999% di polvere e allergeni. Una ricca varietà di accessori inclusi per arrivare anche negli angoli più remoti e bui. E dopo questa rapida presentazione diamo un'occhiata più ravvicinata ai principali modelli della nuova gamma di scope jet. Non ti resta che scegliere quella che più fa per te. Iniziamo dal top di gamma, la scopa Samsung più potente e dotata anche di intelligenza artificiale. La nuova Samsung Bespoke Jet AI che raggiunge l'incredibile potenza di 280 watt ed è la prima scopa elettrica con intelligenza artificiale certificata UL. Bespoke Jet AI grazie alla modalità AI cleaning classifica i diversi ambienti di pulizia della casa, adegua automaticamente la potenza e ottimizza i giri al minuto della spazzola in base alla superficie riconosciuta. Pensa che con questo sistema di intelligenza artificiale si può abbattere il consumo della batteria del 14% perché la scopa utilizza la potenza adatta. E a proposito di autonomia, lo sai che Bespoke Jet AI ti offre fino a 160 minuti di aspirazione senza interruzioni? 100 minuti grazie alla batteria ad elevata capacità più altri 60 minuti grazie alla seconda batteria inclusa più leggera per le pulizie spot o giornaliere. Non è fantastico? Grazie ai suoi accessori inclusi, Bespoke Jet AI arriva a pulire anche nei punti più bui, in quelli difficili da raggiungere e anche nei più elevati, senza alcuna fatica. Last but not least, la nuova Bespoke Jet AI è dotata dell'esclusiva All-in-One Clean Station, il sistema di svuotamento automatico del serbatoio che evita di entrare in contatto con lo sporco dall'inizio alla fine delle pulizie. Un sistema geniale che evita che lo sporco si disperda nell'aria quando svuoti il serbatoio della polvere e che non solo svuota la scopa ma contemporaneamente la ricarica. Ma vediamo altri due modelli per una soluzione di pulizia completa e potente, Samsung Jet 95 e 85. Arrivano fino a 210 Watt di potenza e hanno un'autonomia fino a 2 ore per Jet 95 grazie alle due batterie incluse e fino a 60 minuti per Jet 85. La dotazione di accessori è completa e copre davvero ogni esigenza di pulito. Tra questi troviamo la spazzola Jet Dual per la pulizia di pavimenti e tappeti, la spazzola Slim LED provvista di una pratica luce per arrivare anche nei punti più bui, la spazzola Pet Mini Plus con design anti groviglio per catturare i peli dei tuoi animali, la lancia allungabile, l'accessorio flessibile per arrivare ovunque e la mini spazzola. Ma soprattutto l'accessorio più degno di attenzione è il kit lavapavimenti che comprende oltre all'apposita spazzola dei panni umidificati in monouso e dei panni in microfibra lavabili. Come vedi non manca proprio nulla. E quanto a leggerezza e manovrabilità non le batte nessuno, infatti con un peso di appena 1,44 kg, le scope Samsung Jet ti permettono di pulire con comodità anche nei punti più difficili, per esempio sopra le mensole o gli armadi, riducendo l'affaticamento e la tensione al polso. Nuova gamma di scope elettriche Samsung Jet, potenti e pulite sempre!